Ciao a tutti ragazzi, io sono Niki e benvenuti in questo nuovo episodio degli enigmi di Assassin's Creed Odyssey. Oggi l'enigma è non c'è più tempo e si trova esattamente qui, in questo cesto di olive basso e largo di ceramica. Vi faccio vedere ora dove si trova, si trova qua, in questo punto preciso, poco lontano dalla casa del cavo, in questo uliveto, a focile. Bene ragazzi, se il video vi è stato utile vi chiedo di commentare, condividerlo e lasciare like. Inoltre iscrivetevi al canale Nite. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, bella ragazza.